Reato prescritto e imputati assolti in via definitiva. Termina così il processo bis per la morte di Federica Monteleone, la studentessa di Vibo Marina deceduta nel 2007 a seguito di un blackout in sala operatoria durante un intervento di appendicectomia allo Iazzolino di Vibo Valencia. Dunque definitivo per la prescrizione dei reati contestati il verdetto pronunciato in primo grado dal giudice monocratico di Vibo Valencia nei confronti di quattro imputati tra ex dirigenti dell'ASP e medici dell'ospedale cittadino. La decisione riguarda Benito Gradia e Giovanni Battista De Giorgi, i due chirurghi che avevano operato la ragazza, l'infermiere Mario Silvestri e l'ex direttore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Filomena Panno. Le assoluzioni sono diventate definitive dopo che i giudici della Corte d'Appello di Catanzaro hanno dichiarato inammissibile l'appello presentato al procuratore della Repubblica di Vibo Mario Spagnuolo per intervenuta prescrizione. Il primo processo si era chiuso con la condanna di sette tra medici e funzionari. Condanne queste definitive.